le metodologie didattiche innovative non sono così nuove sono innovative ma non nuove da un punto di vista pedagogico e didattico perché perché risalgono all'attivismo pedagogico alla scuola attiva di ue frene vigozchi eccetera ciò che è di nuovo in queste pedagogie sono gli strumenti e quindi naturalmente avendo degli strumenti diversi rispetto all'epoca sono innovate anche le pratiche didattiche dunque noi le assumiamo queste pratiche all'interno di una formula che quella della didattica multicanale multicanale perché a differenza appunto di quando queste pedagogie attive sono sorte oggi noi abbiamo a disposizione una serie di canali che sono proprio un veicolo di trasmissione di comunicazione di narrazione di gioco e che consentono appunto di integrare diversi strumenti sul piano didattico e pedagogico per questo parliamo di didattica multicanale ma didattica multicanale va associata anche a un'altra formula che è quella di sfidare i media sul loro terreno una formula e poi un'altra formula ancora che è quella della divulgazione scientifica che cosa sono questi due aspetti beh il primo riguarda il fatto che il soggetto oggi è immerso in un mare di comunicazione e lo studente dovrebbe avere le capacità la padronanza proprio di saper gestire questi strumenti di comunicazione e attraverso la rielaborazione dei contenuti quindi una didattica che ovviamente non si basa più solo su meccanismi trasmissivi ma che è rivolta anche all'applicazione termine anglosassone col quale si propone il fatto che lo studente riutilizzi rimpieghi i contenuti che ha preso appunto nel mondo reale nel contesto reale quindi si sfidiamo i media sul loro terreno cioè anziché una comunicazione povera stereotipata spesso basata su contenuti effimeri e noi invece strutturiamo una comunicazione che serve a sviluppare la padronanza di ciò che lo studente ha appreso e quindi gli insegniamo questo e poi l'altra formula è quella della divulgazione scientifica noi ci dobbiamo chiedere per quale motivo i più grandi divulgatori scientifici non lo so di storia di storia romana del rinascimento sono anglosassoni e non italiani perché ma perché è il docente italiano e quindi anche i ricercatori italiani lo scienziato italiano non sono dei divulgatori e non lo sono perché la scuola non li ha formati per questo mentre nelle scuole anglosassoni invece è noto che gli studenti debbono sapere sceneggiare scrivere una storia filmare insomma sappiano fare tutta una serie di cose che vanno nel senso appunto della comunicazione e la didattica multicanale una didattica basata anche sulle sfide è una metodologia che affronteremo sarà quella del challenge based learning che è appunto molto avanzata riguarderà soprattutto il corso avanzato in questo caso ma che propone proprio la sfida cioè utilizzare i contenuti per risolvere dei problemi nel mondo reale ma tutto questo in conclusione del discorso è orientato a che cosa è orientato a fare in modo che sia lo studente a organizzare la lezione in classe è lui che deve fare lezione e non sto parlando di presentazioni buttiamo via applicazioni come powerpoint e keynote eccetera che sono fortemente antidattiche per motivi che poi potrò anche spiegare e invece faremo in modo che lo studente prenda il posto dell'insegnante attraverso questo processo che avviene in tre step che sono quelli che poi studieremo all'interno del corso del resto il successo di un apprendente non si verifica quando riesce a superare il maestro e allora noi dobbiamo lavorare per questo la liquidazione la fine l'uccisione del maestro è il nostro obiettivo ed è l'obiettivo di una didattica multicanale dunque dei sistemi realmente innovativi nell'apprendimento